Ciao a tutti, oggi sarà un video un po' diverso dagli altri perché affronteremo un tema abbastanza importante. Infatti in questo video vorrei spiegare come mai la Gina ha pochissimi casi da tantissimi mesi e come ha fatto il Dragone Rosso a riportare la situazione alla normalità. In questo video non parlerò della parte iniziale della pandemia, quindi mettetevi l'animo in pace. Magari se lo volete farò un video appositamente su questo argomento. Prima di iniziare vi do i dati dell'andamento del coronavirus qui in Cina. Oggi per l'esattezza è il 23 ottobre 2020. Abbiamo 33 nuovi positivi, 18 nuovi casi importati, il numero degli attori positivi si è incrementato di 1 e poi abbiamo 32 guariti, 2 casi dubbi e 0 morti. E quindi voi sicuramente mi direte, ma come fare a trovare i dati? Sicuramente saranno finti, ma la Cina nasconde tutto. Ma farei una piccola obiezione, i dati li ho trovati su Alipay. Alipay è un'applicazione che hanno tutti i cinesi, è un'applicazione molto importante. Basta andare nella sezione coronavirus per trovare tutti i dati, i numeri relativi proprio alla pandemia, più notizie che vengono aggiornate ora per ora. Quindi le notizie ci sono ed è molto strano che da quanto la Cina ha riaperto e quindi è tornata in una situazione di normalità, in Italia se ne parli sempre ma sempre di meno. Fatta questa premessa, iniziamo a sviscerare un po' l'argomento del giorno. Partiamo da metà gennaio. Siamo tra il 22 e il 23 gennaio. Wuhan comincia ad essere quasi un vero e proprio lazzaretto. E il governo cinese, che già era a conoscenza di questo virus, capendo di avere tra le mani una situazione veramente critica, decide di chiudere Wuhan e l'intera provincia dello Hubei. Nel resto del paese invece sono state adottate delle norme più o meno stringenti che sono state anche favorite dai festeggiamenti del capodanno cinese. In pratica si passava da Wuhan, città completamente blindata, dove per esempio solamente un membro della famiglia poteva uscire a fare la spesa massimo tre volte alla settimana, a città come per esempio Pechino, ma anche la stessa Sheinan dove lavoro io, dove si poteva uscire rispettando però alcune regole precise. Adesso, perché il lockdown? In Italia, ad esempio, il lockdown è stato fatto chiaramente per evitare una catastrofe sanitaria. Ma facendoci illudere che tutto sarebbe finito velocemente, che il vaccino che ancora non c'è e mai saperemo se funzionerà al 100% sarebbe arrivato in tempi brevissimi, comunque speriamo arrivi e funzioni, e conscienziati alla merced dei politici che hanno spaccato il paese in tre parti ben distinte. La gente spaventata, i negazionisti e le persone che se ne sono sbattute completamente. In pratica lo Stato, senza considerare che nel frattempo abbiamo avuto l'opposizione peggiore della storia d'Italia, ha deciso questa chiusura, che è stata giusta, senza però fare capire ai cittadini veramente quello che stava succedendo e cosa sarebbe successo. La Cina, invece, è stata un po' più pragmatica. Il ragionamento qui è stato chiudiamo, se no moriremo di fame. Quindi la Cina decide quali sono le cose da difendere e tutelare e chiude. Fa il super lockdown nella provincia dello Hubei, che introduce misure più o meno stringenti nelle altre province, e soprattutto informa i cittadini del pericolo. Mette subito alla guardia la popolazione. Non avendo nessuna arma oltre al lockdown, perché il vaccino, boh, cure qualcosina, il governo cinese indica ai cittadini di usare solamente una cosa, ovvero la mascherina. Ora qui devo dire una cosa, francamente. Tralasciando il fatto che in Italia, ma anche in Europa, perché questo ormai, il coronavirus, è un problema a livello mondiale, nel nostro caso un problema europeo, ogni persona ha la propria idea, non si capisce più niente. Tralasciando questo, troppe persone, compresi purtroppo anche alcuni miei amici, rifiutano di mettere la mascherina, che nel caso viene usata solamente per non prendersi la multa. Quando invece la mascherina, anche quella fatta con l'assorbente di vostra madre, è l'arma più potente che abbiamo in questo momento per difenderci. Ma tanto sono solamente parole buttate al vento, poiché le argomentazioni sono sempre non serve, quando faccio la foto la tolgo, mi dà fastidio. E ragazzi, comunque sia, torniamo a noi. Quindi la Cina informa i cittadini del pericolo. Ed è con questo che ha vinto la Cina. Anche in città, dove la circolazione comunque era un minimo permessa, la gente non usciva di casa. Non per paura di essere arrestata, per prendere una multa, ma perché la gente si cacava addosso, era impaurita da quello che succedeva a Wuhan. Aveva paura perché aveva visto le immagini di Wuhan. E questo è completamente il contrario di quello che è successo in Italia a febbraio. Da noi, invece, mentre la gente moriva a Palate, a Bergamo, ce ne siamo sbattuti l'anerchia. E questo, secondo me, vi dovrebbe fare riflettere molto sui DPCM. Secondo me, in questo momento di crisi, mai ci potrà essere un DPCM adatto, perfetto, se il popolo si comporta in completa anarchia. Comunque sia, questo è il lockdown. In Cina, come in Italia, la curva si abbassa, si acchiattisce e si ricomincia a riportare la normalità nelle città. Prima, verso metà aprile, nelle parti della Cina che erano state meno colpite dalla pandemia, successivamente toccherà anche a Wuhan. Ma mentre in Italia il lockdown è stata l'illusione della fine del problema, in Cina il lockdown è stato il primo tassello per ricominciare a vivere normalmente, o comunque con una parvenza di normalità. Infatti, nei mesi successivi al lockdown in Cina, le città, anche se erano tornate alla normalità, sono rimaste, tra virgolette, chiuse. Quando le persone si volevano spostare, soprattutto tra centri abitativi molto grandi, una volta arrivati nella città di destinazione, dovevano fare 14 giorni di quarantena. E non solo, qui ogni persona, e questo lo dovrò scaricare anche io, possiede una sorta di immuni all'interno di WeChat. WeChat sarebbe il WhatsApp cinese. Questo immuni cinese avvise i cittadini nel caso di contatto con eventuali positivi. E senza la registrazione a questa app è impossibile fare certe cose, come per esempio andare al cinema, prendere un treno o prendere un autobus cittadino. Quindi in Cina hanno centrato l'obiettivo, ovvero mantenere la curva bassa, molto ma molto bassa, dopo il lockdown. Perché hanno capito che tornare eventualmente nelle stesse condizioni di febbraio avrebbe questa volta avuto veramente delle gravi ripercursioni sull'economia. E qua si sono preparati a tutto, anche alle eventualità peggiori, per esempio quella di una non riuscita del vaccino. Non solo, altro aspetto molto interessante è la politica nei confronti degli stranieri. Infatti da marzo 2020, tutti coloro che vogliono tornare in Cina, compreso me infatti, devono fare una quarantena di 14 giorni, proprio per evitare i contagi dal rientro. Inoltre dopo il 28 marzo, la Cina ha sospeso tantissimi visti in modo da evitare un rientro di massa degli stranieri inizialmente fuggiti per la paura. Termino il video con un altro punto molto importante, la gestione dei malati. La Cina circa da metà febbraio conteggia i positivi sintomatici, positivi asintomatici, in due tabelle ben distinte tra i loro. La particolarità qua in Cina è che gli asintomatici vengono ricoverati e isolati e gli viene data una terapia medica e possono essere dimessi solo con due tamponi negativi a distanza di tre giorni. Ma qui è proprio particolare l'uso dei tamponi. Per prima cosa, ha veramente senso in questo momento di usare i tamponi in Cina perché i casi sono veramente pochi. Quindi un uso massiccio dei tamponi permette veramente di scovare un focolaio e riuscire a limitarlo. Infatti qua in Cina bastano pochissimi positivi per chiudere alcune parti di una città e fare milioni e milioni di tamponi a tutta la popolazione in pochissimi giorni per scovare gli asintomatici. Un po' come è successo a Dalien circa due o tre mesi fa, come è successo di recente al Zindao. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Se fino a qualche giorno fa, prima della partenza, ero convinto che la Cina ce l'avesse fatta grazie alle testimonianze di amici e colleghi, in questi giorni, anche se guardando dalla finestra del mio alberico, sto constatando questo successo attraverso i miei occhi. Spero che questo video sia stato utile. Ovviamente ti invito a mettere mi piace, iscriviti al canale se ti va di condividere il video. Zai zian! Niente, oggi per pranzo mi hanno portato questo yogurt con sopra disegnata una mela. Buono! Buono!